Restitution Day Abruzzo, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle rendicontano i loro stipendi dimezzati a favore dei cittadini in difficoltà. 400 mila euro il totale finito nel fondo destinato a sostenere le aziende, 29 quelle che ne hanno beneficiato grazie a Pettinari, Marcozzi, Mercante, Ranieri e Smargiassi. Oltre 400 mila euro restituiti in due anni, 5 consiglieri regionali che senza che ci fosse una legge nazionale, senza che ci fosse una riforma della Costituzione, hanno messo mano al proprio portafoglio e restituito alla collettività 400 mila euro di stipendi. Abbiamo già finanziato col microcredito a 5 Stelle 29 aziende in Abruzzo, quindi abbiamo creato un fondo che finanzia le piccole e medie imprese, 29 aziende sono partite grazie alla restituzione dei 5 consiglieri regionali, colleghi Mercante, Smargiassi, Marcozzi, Ranieri e Pettinari, quindi abbiamo fatto una delle più grandi rivoluzioni della storia anche in Abruzzo. E dopo il rendiconto Pettinari rilancia la legge sul dimezzamento degli stipendi di tutti i politici regionali e anche dei parlamentari. Abbiamo presentato la nostra legge che sta ancora ad impolverirsi all'interno dei cassetti per dimezzare i loro stipendi, quelli degli assessori regionali, dei consiglieri regionali, del presidente della regione e purtroppo non è stata approvata, addirittura è stata rinviata in commissione come ieri hanno fatto in Parlamento. è stata calendarizzata la nostra legge per il dimezzamento di tutti i parlamentari e lo hanno ributtata in commissione. Questa è una grande vergogna.